I ragazzi hanno bisogno di stare insieme, di confrontarsi, di litigare, di fare amicizia, di far pace, di sognare. E tenerli chiusi in casa, sempre davanti a un video, a un computer, non è il top. Serve perché è importante, però hanno bisogno di libertà, di spazi, di aria libera, di sole, di vite, insomma. Di costruire sogni, perché comunque li hanno dentro. Diceva così Don Gigi Pini, parlando dei suoi amati giovani, che seguiva con Tremenda XXL la sua creazione a Somaggia di Samolaco. Erano parole del marzo 2021, quando la pandemia da Covid-19 non era ancora finita del tutto, ma parole sempre attuali. E ora i suoi giovani, così come tutto il territorio della Val Chiavenna e non solo, saluteranno il sacerdote scomparso lunedì a seguito di un malore. Numerosi messaggi di cordoglio, tra cui spicca quello di Don Antonio Mazzi. Abbiamo camminato tanta strada assieme e condiviso tante avventure e il suo saluto ufficiale, grazie anche a quella contagiosa tremenda voglia di vivere, che hai sempre saputo trasmettere ai ragazzi e a tutti quelli che hai incontrato. Ma anche associazioni, realtà e amministratori locali che hanno conosciuto Don Gigi. Sarà salutato nel centro giovanile di Somaggia alle 10 di mercoledì 27 settembre, poi sarà portato a Grosio dove le esequie saranno celebrate venerdì 29 alle 15.